e bello a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video di Brawl Stars ed oggi guardate chi ho trovato ho trovato B B ho trovato BB comunque c'è anche un po' di rumore perché infatti non sono a casa mia ma sono a casa di mio zì perché dormo qua ovviamente e allora facciamo in due se magari non sentite facciamo in due e facciamo pronto madonna quanto bello va bene dopo il rumore aspetta adesso un po' bello non spaccare sta cassa bravo Penny abbastanza forte sta parte va bene intanto dire che non sono messo tanto male e allora adesso proviamo a giocare forse può essere che faccio ho fatto fuori sto team ragazzi non so come ho fatto fuori un team non so come vabbè tanto sono messi molto molto bene vabbè a parte che già erano due lanciatori non ci potevano fare niente i lanciatori sono da lontano che sto facendo la mia penna ecco qua ecco qua ecco qua questo team cattivo che mi voleva killare ma invece bam io non ci casco secondo me ci stanno aspettando al centro eh eccoli qua e ragazzi gg erano proprio spacciati non potevano proprio fare niente e comunque qua c'è un peccato che mi mancano due coppe a grado 12 non si c'è un peccato che mi sono tantissimo è il peccato che mi sono stati solo dove ci sono stati trovi la mia storia a tefruit e quello che si이가 già svegliata completamente non ti sono stati trovato eccomi ragazzi risponato ok in power up per me anche il mio compagno meglio che al centro non ci andrei eh anzi anzi no proviamo a killarlo ok l'ho killato non ho usato l'auto non sono riuscito neanche a prendere il power up vabbè non importa non importa l'importante è basta che resta vivo sì però non devi sparare se no comunque ho avuto un botto di fortuna trovarlo comunque è stato tipo come brawler avevo scegli quindi l'ho trovato con scegli ognuno che sta facendo che tanto io l'ho preso ben due power ok 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 credo che a chi e mi abbia visto ragazzi stato la ulti per niente vabbè non ci potete fare niente almeno portata grado 12 bb dai giochiamo a questo tic a parte non è che mi sembra tanto scorso vabbè ok l'abbiamo una cassa poi lì c'è sempre il playoff bravo dove vai dai che dai cose killata ok killata non volevo usare la ultima no vabbè attaccava mille a colpo comunque ragazzi secondo me ho trovato un hacker perché quando ho giocato un giorno prima di pomeriggio lo sai che cosa ho trovato ragazzi avevo trovato adesso vi spiegato uno un eugenio livello 1 132 coppe che secondo me l'avrebbe appena trovato come me vale le mie stesse coppe si chiamava mizan abbiamo giocato siamo arrivati secondi io ho fatto ve lo ma ve lo giuro dopo vi faccio vedere sul registro ma ve lo giuro io ho fatto esci dopo me lo sono rincontrato ragazzi e poi un'altra volta ho fatto esci me lo sono rincontrato per tre volte secondo me ragazzi è un hacker secondo me sto qua è un hacker ok dopo vi faccio vedere sul registro ma ve lo giuro che non ho fatto gioco ancora ecco adesso vi faccio vedere anche se sto bratton che sarebbe stuttico non è tanto scorso ma mi dispiace ti devo abbandonare adesso facciamo stromischia non qua non qua non qua se magari lo vedrò no ho fatto un po di partite con mio zio no 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 non qua non qua no no ecco forse prima di questo no e mano a lungo quanto è ma non così aspetta vi dico quando esce ecco qua ecco ragazzi 4 ore fa Izan va bene era l'ultimo poi ancora Izan poi ragazzi qua guardate qua e quella cosa che ho visto che è in nessun club oh prima e ve lo giuro prima aveva messo come schermata mortis adesso ha messo Eugenio non ci credo non ci credo va bene ragazzi questo qua è un hacker è un hacker ha pure trovato in 3 giorni in 3 giorni si in 3 giorni che cavolo dico in un giorno è impossibile ha trovato Eugenio Peril e Penny no ragazzi questa cosa è impossibile impossibile ah vabbè qua sono arrivato madonna quanti tabitti c'erano tutti comunque a livello scarso vabbè comunque facciamo un'altra partita con Bibi che non ci dispiace che è molto forte a Bibi che madonna io ragazzi sono rimasto scioccato da quanto lo trovo ok 3 power up per me è molto buono scusate senza avere sfortuna senza secondo me te non devi pushare basta basta prendiamo il power no ok è morto il mio amico non vuoi fare niente non vuoi fare niente attenzione che quell'ottobit mi stava per beccare attenzione un secondo sei noto sei noto ragazzi non dimmi che muore addio madonna non se ne sono neanche accorti vabbè lo sapevo che dopo qui vediamo allora ragazzi intanto sono messo tanto bene invece è malissimo distruggergli il robo ancora il centro ma che cosa fa con poca vita ragazzi ve lo dico sto video durerà almeno 15 minuti durerà almeno 15 minuti no io non vado a prendere quel power a parte solo per uno la parte secondo me non ci sarebbe niente dai no muori cosa cosa no ma si muore coso si muore tu così impara impara ad avvicinarmi ok gli ho annontanati e vabbè vabbè non ci ho potuto fare niente c'erano tutti i miei dietro più tre però più tre coppe più tre coppe e guardate comunque quante coppe mi sono rimasto guardate ho pure preso le monete adesso madonna ho recuperato pure le mie coppe adesso 8000 quant'ora 8637 ecco quanto ci sono queste intanto facciamo un'altra partita vieni subito al centro dai sono sicuro veloce corri corri al centro spacca la te io mi spacco due cassette al centro vai ci faccio faccio ci faccio lui pensa solo a me a mortis non lo pensa perché non immagina no vabbè no vabbè tanto ho preso solo due tre coppe e no scusate ragazzi perché sono rimasto un po' scioccato che c'ero solo io solo io io solo non so perché c'ero solo io e tutto il mondo è mia è mia la cassa via e l'altra se l'ha presa lui ma non è importante dodici io te lo spacco sto robo è sto robo io sono è è è è è è è è è chi lo lo si bravo prendi power si bravo ragazzi questo gesto è fortissimo me la mi fatti vedere che nasco ok questo bombardino meglio che te ne vai via no lo sapevo di non usarla perché vabbè ragazzi non l'ho usata non l'ho usata secondo me ho fatto bene perché me la sono disparata non per arrivare scontro finale non quella roba ok adesso posso metterlo anche qua non c'è avete visto ragazzi che cosa è successo che cosa è successo a autobit è morto è morto dalla torrita vabbè comunque spero che il video vi sia piaciuto qua e lasciate like e iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo e nuovissimo video ciao